Ciao a tutti, a grande richiesta oggi esce il secondo episodio dove andiamo ad analizzare i portafogli dei più grandi investitori del mondo. Per chi si fosse perso il primo video vi consiglio di andare a vedervelo perché abbiamo analizzato il portafoglio di Charlie Munger. Oggi andiamo a vedere invece quello di Ray Dalio, che è il manager dell'Edge Fund Bridgewater Associates ed è anche l'inventore dell'All Weather Portolio, cioè un portafoglio diversificato che teoricamente è riuscito a performare bene in ogni regime economico. Come potete vedere questa qua è la performance del portafoglio di Ray Dalio, ma più in generale del suo Edge Fund che si chiama Bridgewater, negli ultimi 10 anni. Come potete vedere non è una performance super positiva, è semplicemente una performance molto poco volatile e che si può considerare anche abbastanza corretta per un portafoglio di così grandi dimensioni che ovviamente hanno una tolleranza a rischio molto più bassa rispetto a quelle che possiamo avere noi. Andiamo a vedere molto brevemente quali sono stati gli ultimi trade di Ray Dalio. Possiamo vedere che ha nell'ultimo trimestre ridotto la sua posizione in Medtronic, che è un'azienda farmaceutica, se non ricordo male, inglese, che però non ho idea se avesse senso o no perché non l'ho mai potuta valutare. Qua possiamo vedere la cosa che mi fa un po' strano è il fatto che avesse comprato qua e venduta più basso, quindi non so bene come valutarla. Un trade per il quale mi trovo d'accordo è sicuramente l'acquisto di Visa, che per chi non lo sapesse anch'io in portafoglio e sto accumulando anch'io come sostanzialmente ha fatto lui abbastanza. Ha comprato Mondeles, molto interessante, che per chi non lo sapesse è una holding che tiene marchi all'interno del settore food and beverage. Strano, ha venduto Berkshire, non lo sapevo, ha venduto, che strano, ha comprato intorno a febbraio e maggio 2022 e poi ha venduto ad agosto. Molto molto strano, dovete anche considerare che il portafoglio di Ray Dalio è super, iper, mega diversificato, infatti ha 856 posizioni, che è tantissimo, è una cosa che vedete veramente poco nei portafogli dei top investor, infatti è anche un caso particolare il suo. E tra l'altro tra le più grandi posizioni possiamo vedere anche che ci siano molti, molti ETF. Qua ad esempio abbiamo un ETF sui mercati emergenti e qua invece abbiamo un ETF sull'esempio 500. Qua sempre un ETF sui emerging market, quindi è pieno anche di tanti, tanti ETF. E noi oggi andiamo a vedere magari, che secondo me è anche la cosa un po' più carina e che secondo me vi dà valore, andiamo a vedere quale potrebbe essere la prestazione di 3-4 aziende che occupano le maggiori posizioni del suo portafoglio. Infatti oggi andiamo a vedere la mia valutazione su Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Cola e Pepsi, che secondo me potrebbero essere interessanti anche per tanti di voi. Prima agenda che andiamo a vedere è Pepsi, che è la più piccola delle quattro posizioni, che poi semplicemente piccola non è perché occupa il 3% di un hedge fund che ha come asset under management 140 miliardi, quindi effettivamente poi piccola non è. E vi dico qual è la mia valutazione personal tramite il mio algoritmo. Come potete vedere, ma ve lo ingrandisco un pelo, Pepsi non ha un gran voto, infatti ha 4.71 su 10. E questo perché principalmente è dovuto al fatto che Pepsi abbia veramente poca liquidità in relazione al proprio debito. Infatti lo suo patrimoniale ha una valutazione di 3.78 su 10, che è molto bassa. Se andiamo a vedere i ratio più importanti, che sono il current ratio, il cash to debt e il rapporto che c'è tra equity e total debt, vediamo che sostanzialmente l'indebitamento per Pepsi sia molto molto elevato. In generale infatti abbiamo, stando all'ultimo stato patrimoniale, abbiamo praticamente 6 miliardi in cash, 6 miliardi di debiti a breve termine e addirittura 34 miliardi a lungo termine, che sono troppi per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda il conto economico abbiamo una situazione pressoché normale, infatti abbiamo margini bene o male in linea con il settore, ma più bassi rispetto alla media del S&P 500, infatti abbiamo un rating di 5.78 su 10, che è abbastanza basso. La cosa poi non migliora con i multipli, infatti abbiamo 5.2 su 10 sui multipli, infatti abbiamo un PE di 24 che è molto molto elevato, infatti se andate a vedere il grafico di Pepsi siamo praticamente sui massimi. La situazione è poi peggiore nel momento in cui andiamo a fare un discounted cash flow, che ci porta addirittura a una sopravvalutazione del quasi 100%, perché il fair value sta intorno ai 90$ il prezzo corrente di 170. A mio avviso a questi prezzi qua non conviene entrare su Pepsi. Infatti la performance che prevedo io dai prezzi attuali per i prossimi 3 anni è addirittura del 5%. Ti mando una credita che non è poi bassa, che è quella di un 7% all'anno per i prossimi 3 anni, e ando a stimare un PE di 19, che ci porta tra 3 anni ad avere un prezzo di 165$. So che vi sembra assurdo, però le mie valutazioni sono così, attualmente non entrerei mai in Pepsi a mio avviso. La seconda posizione che andiamo a valutare è quella in Coca-Cola, che anch'essa è abbastanza grande, perché occupa addirittura il 3%, e qua la situazione cambia leggermente in positivo, ma il dato di fatto è che non investirei a questi prezzi nemmeno in Coca-Cola. Abbiamo un rating di 5,89 su 10, si avvicina alla sufficienza ma non c'è ancora. Lo stato patrimoniale è sicuramente migliore rispetto a quello di Pepsi, ma anche qua vedo Coca-Cola abbastanza tanto indebitata, sicuramente meno di Pepsi, ma comunque è indebitata pure Coca-Cola. Infatti abbiamo in liquidità 13 miliardi di dollari, ma se noi sogniamo il debito tra breve e lungo termine abbiamo praticamente 40 miliardi di dollari, che non sono pochi e l'interesse sul debito comunque si fa sentire poi nei bilanci. Il conto economico invece è nettamente migliore rispetto a quello di Pepsi, infatti abbiamo un rating di 8 praticamente su 10, questo è dovuto al fatto che ha dei margini veramente molto elevati. Pensate che ha addirittura un net margin del 24%, che è tantissimo, così tanto il settore in cui si trova. Sicuramente la situazione è peggiore, si trova poi soprattutto nei multipli prezzo, che sono veramente molto esagerati considerando la storia di Coca-Cola. Infatti ha addirittura un PE di 27, e un price to free cash flow di 26. Follia per Coca-Cola. Questo ci porta ad avere una sopravvalutazione sia nel discounted cash flow, che prevede un fair value intorno ai 40 dollari, e sia nella valutazione sui multiple, infatti prevede una crista solamente del 13% da 4 anni per il prezzo, stimando un PE di 21-22 e un EPS fra 3 anni all'incirca di 3, che ci porta ad avere un pezzo di 63 dollari tra 3 anni. Quindi non c'è margine di sicurezza a mio avviso, infatti non entrarei mai in Coca-Cola adesso. Le due posizioni più grandi che sono Johnson & Johnson e Procter & Gamble, sono anch'esse posizioni dove a mio avviso non trovo margine di sicurezza. Sicuramente Johnson & Johnson ha dei buoni bilanci di money multiple, infatti ha un rating di 63 su 10, che è abbastanza elevato. Lo stato patrimoniale è pressoché perfetto, infatti ha un rating di 7.22 su 10, che è molto molto elevato. La situazione debitoria è sotto controllo in relazione anche al cash che ha, infatti ha 34 miliardi in cash, che è pura poesia, considerando anche che tra tutto il debito ne ha poi 31 di miliardi. Il problema per queste quattro aziende, secondo me, è quasi ed esclusivamente il prezzo, se andiamo a togliere forse Pepsi, che ha dei problemi, secondo me, non sotto patrimoniale. Il discounted cash flow che ho fatto per Johnson & Johnson, considerate che questo qua è un discounted cash flow molto veloce, però prevede una sopravvotazione del 18% e se noi andiamo a vedere la valutazione tramite i multipli, vediamo che stimando una crescita all'incirca di un 9-10% per i prossimi tre anni, stimando un PE di 19-20, che può essere corretto per Johnson & Johnson, tra tre anni otteniamo un prezzo di 185 dollari che non ci garantisce un margine di sicurezza abbastanza elevato per poterci investire. La situazione è pressoché la stessa per Procter & Gamble, infatti abbiamo un possibile guadagno del 5% in tre anni, considerando anche il dividendo. Capite che a questi prezzi qua non so se convenga investire. Il discounted cash flow infatti prevede una sopravvotazione del 37% su Procter & Gamble, che ha tra l'altro una valutazione anche molto più bassa di Johnson & Johnson, infatti ha una valutazione di 5,24 su 10. Anche questa azienda qua è molto molto indebitata in relazione al cash che ha, infatti come voti è veramente molto bassa, ha 4,70 come rating. Come margini sicuramente è messa molto meglio di Pepsi, però anche qua i problemi secondo me sono in generale su queste quattro aziende qua, sui multipli. Capite che Procter & Gamble ha 25 dpi, non si può vedere, stessa cosa per il free cash flow. A questi prezzi qua non comprei nessuna delle quattro aziende, scendesse solo tutte quattro può darsi che magari penserei di investirci, però a questi prezzi qua non lo farei mai. Ed è per questo che penso che il portafoglio di Ray Dalio non possa sovraperformare le S&P 500 da qua a 3,5 anni. Detto questo fatemi sapere questo nei commenti quale altro super investor volete vedere nei prossimi video.